Mercoledì al Paolo Borsellino c'era chi avrebbe dovuto esserci, gli amici, i conoscenti, la famiglia, ovviamente in prima fila, il fratello Domenico, l'artefice e il mentore di tutto, le istituzioni politiche eppure la polizia penitenziaria di Bari. Tutti arriva a dire con un silenzio che in realtà era molto più significativo di tante parole, che Michele, il nostro Michele Perrini, non se ne è portato via il destino e un incidente sul lavoro due mesi fa, ma è sempre con noi, semplicemente perché lui, come ha sottolineato Don Gianni Giusto, era la parte della migliore gioventù di questa città. E proprio per questo la polisportiva ha dedicato una targa commemorativa in suo nome e soprattutto ha pure piantato un albero, non uno qualsiasi, ma un gelso che crescendo abbraccerà tutto il palazzetto e quindi tutta la città. Oggi mi piace pensare che Michele, che conoscevo, ho avuto la fortuna di conoscere, è ancora qui e ha guidato lui questo gesto di oggi, di fronte poi a una struttura che realizziamo con dei fondi proprio destinati ai giovani e al loro percorso nel recupero della legalità. Insomma, quindi credo che sia il luogo migliore per rappresentare ancora le sue parole. La serata è stata utile poi per ribadire come morti come questa, tale più assurde, non devono più accadere. Michele, quindi, è sempre con noi, anche se volato in cielo prima che potesse realizzare i propri sogni.